Ciao ragazzi a tutti questo nuovo video Oggi vi facciamo dare alcuni trucchetti con le testa dei draghi Vabbè comunque iniziamo Buona visione Comunque mettiamo una lastra Mettiamo una testa e si formeranno degli occhi Se facciamo così gli occhi si allargeranno Ragazzi ora in pratica dobbiamo soltanto fare Così una vaccina Una vaccina Tipo questa qui Che fa È strana Sì è strana e è anche creepy Vabbè comunque passiamo al secondo trucco Ok ragazzi Questo trucco come potete vedere Già io ci ho costruito Ci ho fatto tipo dei mostri Dei mostri Siamo tipo dei ragni però vero Comunque si fa così Mettete qua uno shark Davanti una testa di under dragon Mettere un pistone Attivarlo Ed ecco qui il risultato Sembra uno sharker dragon Si toglie la maschera e se la chiude Che sembra che ha i buchi al centro Perché altrimenti come fa ad uscire la bocca E se volete potete anche attivarlo La testa E come vedete ecco il risultato Ora passiamo all'ultimo Il terzo e l'ultimo Comunque Comunque ragazzi Ora bisogna fare un cerchio Cerchio così Poi mettere un altro blocco dietro Con la testa di under dragon Aspettate Ecco Ok ragazzi Poi mettete uno scalino Poi così Mettete dei scalini di qua Ed ecco qui una radio Se volete potete anche aggiungere Dei blocchi di calcio e struzzo nero E metterli in questo modo Così da formare delle vere e proprie casse Ok Beh ragazzi Spero che il tutorial vi sia stato utile Per anche fare delle belle costruzioni Tipo in macchina Tipo Però una radio troppo grande Vabbè Poi fare anche i mostri Come ora vi faccio vedere che sono alle mie spalle Eccoli qua Li ho già costruiti E qua le ho appena mi dirmi Non ci fate caso Comunque spero che il tutorial vi sia piaciuto Lasciate mi piace Se questo tutorial arriva a 7 mi piace 7 Porterò un quarto tutorial Ciao